Beh, è evidente che la Calabria soffre ancora di un'emorragia, che è quella della partecipazione democratica larga e diffusa. Il dato dell'affluenza è un dato basso, è un dato che vede tante elettrici e tanti elettori non recarsi all'urna, non esprimere la propria preferenza, non partecipare a quelle che sono le consultazioni elettorali regionali. Questa dissefazione al voto, secondo te che cosa nasce? Quindi la gente è lontana dalla politica? La gente è lontana dalla politica, le aspettative dei calabresi per questa regione sono tante, sono alte. E fino ad oggi evidentemente i partiti sia da un lato che dall'altro, qui facciamo mea culpa alla sinistra nel suo panorama più complessivo, non sono riuscito a rappresentare stanze, bisogni, proposte, fatti concreti per i calabresi. È evidente che da domani parte un percorso fondativo nuovo, il centro-sinistra, come in Italia, come già dichiarato nel suo appello il segretario nazionale del Partito Democratico e per la nostra parte anche articolo 1, dovrà rifondare il centro-sinistra, rimettere in campo una nuova piattaforma e penso alla Calabria in cui è ormai necessario ed evidente che serve rimettere in discussione tutto, rimettere al centro una nuova classe dirigente generazionale che provi a cambiare le cose e a metterci la faccia in prima persona.